Vendola si difende come può, oggi abbiamo anche fatto una conferenza stampa dove abbiamo presentato tanti che stanno abbandonando SEL per entrare in rivoluzione civile e noi siamo una casa aperta a tutti quelli che vogliono cambiare l'Italia. Vendola si è inserito in una coalizione che si prepara a stringere un accordo con Monti, ha fatto una scelta diversa da quello che lui dice. Grazie a tutti.